Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione giorno in apertura, l'emergenza sanitaria, l'allarme delle varianti e in particolare la variante Omicron con un caso riscontrato proprio in queste ultimissime ore a Magenta, l'ha comunicato l'amministrazione comunale, la persona è a casa sua, è sotto stretta osservazione da parte dei medici. Dettagli nel servizio. Un caso di variante Omicron a Magenta, questa è la notizia che può cambiare le carte in tavola almeno sul piano emotivo in un territorio, quello del magentino a Biatense, appunto in cui le ordinanze dei sindaci in vista delle festività del Natale e la gestione dei quattro ospedali stanno tenendo i contagi sotto controllo. La notizia è stata comunicata direttamente dal profilo istituzionale del comune di Magenta, attraverso cui le autorità sanitarie e la giunta di Chiara Calati vogliono rassicurare la città e il territorio. È stata verificata da ATS la segnalazione di un caso di variante Omicron a Magenta, così inizia il comunicato. Si tratta di un solo caso a domicilio già preso in carico da ATS che sta eseguendo una stretta osservazione. Le autorità sanitarie hanno confermato che i familiari e i contatti stretti sono tutti in isolamento secondo protocollo e sono stati informati i rispettivi medici di base. La situazione è sotto controllo e monitorata, conclude il comune. In questo momento gli ospedali di SST ovest milanese rimangono comunque in una situazione di controllo con Legnano dedicato a essere un eventuale hub con un reparto di sub intensivi ad Abbiategrasso e con il Fornaroli di Magenta in cui non sono stati aperti i reparti Covid perché non necessari dopo il punto della situazione fatto dai medici nella mattinata di lunedì. L'emergenza sanitaria che riguarda non solo il tema delle varianti ma anche quello del Green Pass, del Super Green Pass con alcuni problemi riscontrati dalle persone guarite dal Covid a Cassol Novo, quindi non molto lontano peraltro da Magenta perché la documentazione, il documento verde non si rinnova, non si aggiorna e questo significa che le persone guarite non possono tornare al lavoro e non solo ovviamente al lavoro. Andiamo a collegarci con Paolo Barney che sta seguendo questa altra vicenda abbastanza tortuosa e complicata. Paolo, non senza disagio evidentemente per i cittadini. Sì esatto, buongiorno, è una segnalazione che arriva appunto da Cassol Novo e che cercheremo di approfondire nelle prossime ore in uno dei messaggi periodici che il sindaco Luigi Parolo ha inviato ai cittadini riguardo all'andamento dei contagi in città segnalava questa cosa, cioè che ci sono alcuni cittadini cassolesi che negativizzatisi e quindi risultati poi negativi al tampone dopo essersi stati contagiati non hanno avuto la comunicazione, l'aggiornamento dei loro dati e della loro cartella in tempo per quanto riguarda la riattivazione del Green Pass. Si parla molto in questi giorni di servizio a livello nazionale perché il Green Pass non si disattiva quando una persona risulta positiva al Covid, qui invece abbiamo un caso contrario quanto pare, cioè almeno una persona che si sarebbe negativizzata e che quindi non gli si è riattivato il Green Pass e che ha avuto difficoltà per qualche giorno a non poter andare a lavorare. Tra l'altro Cassol Novo è uno dei paesi che si aggiunge alla lista delle scuole elementari mandate in didattica a distanza fino alle vacanze di Natale, causa contagi alle primarie, aggiorniamo questo elenco dicendo che questa mattina a Pieve del Cairo non sono state fatte entrare le classi seconde, terze, quarte perché è una maestra risultata positiva, però al momento non si parla di chiudere la scuola e poi c'è il fronte ai vaccini. Agende complete per il mini hub che è stato istituito a Mede, agende complete da ieri, praticamente il mini hub di Mede non si trova più nel portale di prenotazione regionale perché non ci sono più appuntamenti disponibili, quindi si attende di capire se potranno aumentare gli slot o in alternativa andando avanti con il calendario naturalmente si libereranno delle date. Problema, terza dose che a vicino e dintorni si fa sentire, dalle segnalazioni che ci sono giunte ormai, i tempi di attesa per chi prenota adesso per effettuare la terza dose sono tra i 30 e i 40 giorni ed è molto difficile riuscire ad avere un appuntamento al centro vaccinale di Vigevano. Tendenzialmente i vigevanesi vengono mandati a Milano oppure negli hub della SST Ovest milanese, cioè segnatamente Magenta o Cugiono, una situazione che già avevamo segnalato nelle scorse settimane e che non sembra essere migliorata. Si fa fatica quindi ad avere la terza dose in tempi brevi a Vigevano e nei comuni attorno a Vigevano. Per il momento è tutto. Grazie Paolo. Restiamo sui temi del Green Pass perché abbiamo registrato i disagi a Castle Novo. C'è invece chi approfitta della certificazione utilizzando quella degli amici per provare ad entrare in bar e ristoranti. Due casi registrati proprio in oltre po' pavese nelle scorse ore le persone sono state fermate e denunciate dalle forze dell'ordine. Entrano nel bar o nel ristorante per farlo mostrano il Green Pass di un'altra persona. Forse lo avevano già fatto in passato ma questa volta è andata male perché hanno trovato i carabinieri che li hanno fermati e denunciati per il reato di sostituzione di persona. L'aumento dei controlli disposto dalla Prefettura ha portato alle prime multe e denunce per violazione della normativa sanitaria. In questo caso a finire nei guai sono stati un uomo di 46 anni e una donna di 27. Entrambi hanno tentato, in circostanze diverse, di introdursi in un locale pubblico senza averne diritto. Il primo in un ristorante di Broni, la seconda in un bar di stradella con il Green Pass di qualcun altro ma il risultato è stato lo stesso. Sono stati denunciati. Controlli straordinari nella zona dell'oltrepo orientale hanno interessato anche 104 fra bar, ristoranti e negozi ed il Green Pass è stato controllato un totale di 579 persone. Due di queste sono state trovate senza la certificazione verde e sono state quindi sanzionate. Ma a finire nei guai ci sono anche i titolari di tre bar fra Chignolo Po e Stradella. Nel primo caso il gestore avrebbe permesso ad un cliente di entrare senza mascherina e senza Green Pass. A Stradella invece sembra che fossero gli stessi gestori dei bar ad essere sprovvisti del Green Pass. I controlli del weekend hanno però permesso di far emergere una serie di altri reati di infrazioni, in particolare al codice della strada ma non solo. Una ragazza di 20 anni di Torricella Verzate è stata denunciata perché trovata alla guida di un'auto senza la patente e anche per essersi rifiutata di sottoporsi all'alcol testa mentre due uomini di Pavia e Salso Maggiore Terme sono stati segnalati alla prefettura come assuntore di stupefacenti perché trovati in possesso di piccole quantità di droga. Cambiamo decisamente argomento, a Milano tiene banco il tema delle violenze sui treni con i casi registrati ad inizio dicembre con la proposta, con la petizione lanciata online di dedicare vagoni per sole donne. Io vado a collegarmi con Giovanni Migone di Amicis perché come è ovvio il tema sta agitando il dibattito non solo a livello politico. Giovanni. Sì, buongiorno Mario, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. In effetti a far scattare la petizione di cui hai parlato sono stati gli ultimi casi, purtroppo solo gli ultimi di una lunga serie. L'ultimo nello specifico è quello del 3 dicembre scorso quando in una sera di un venerdì di inizio dicembre appunto intorno alle 22 due ragazze sono state aggredite su un treno regionale nella provincia di Varese. Una di loro fortunatamente è riuscita a scappare, l'altra ahimè non ce l'ha fatta per cui è stata violentata. Non è una magra consolazione diciamo quella che gli aggressori sono stati fermati dalla polizia, un italiano e un marocchino irregolare ma tiene banco come giustamente sottolineavi il tema della sicurezza all'interno delle carrozze di Trenord al punto proprio che una signora di Malnate in provincia di Varese ha lanciato una petizione online su una delle piattaforme più importanti per chiedere maggiori tutele, maggiori controlli e maggiore sicurezza. Si chiama proprio vogliamo viaggiare sicure il titolo della petizione ed è indirizzata direttamente a Trenord. La richiesta è quella di riservare tutte le carrozze di testa di tutti i treni alle sole donne. Una petizione, una proposta che ha raccolto nel giro di appena 48 ore quasi mille firme e che a questa mattina erano oltre 10.000. Ma una proposta che ovviamente ha fatto scattare, ha innescato anche un acceso dibattito pubblico all'interno della politica, non solo quella locale, regionale, ma anche a livello nazionale. Tra i primi ad esporsi c'è stata la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini che ha bollato la proposta come una sorta di ghettizzazione per le donne. Più o meno sullo stesso registro si è tenuto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che proprio ieri sera ha parlato di un nuovo modello di apartheid, se questa proposta venisse approvata, accettata. Entrambi, sia Boldrini che Fontana, chiedono invece maggiori controlli sui treni. al punto che il governatore della Lombardia ha in qualche modo proposto, ha lanciato l'idea che sui convogli di Trenord vengano inviati i militari dell'esercito per effettuare controlli nelle ore e soprattutto sulle tratte considerate più pericolose. Noi siamo andati a sentire cosa aveva da dire un esponente del Comune, che è anche una giovane donna, che è l'assessora al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano, Alessia Cappello. Queste sono le sue parole. Capisco da un lato la necessità di una maggiore tutela, un bisogno di sicurezza appunto da giovane donna. Devo ammettere che anche a me è capitato più volte magari di trovarmi in delle situazioni in cui ho avuto paura. Non so se la soluzione, ed è qui appunto che mi pongo anch'io una domanda, una riflessione, non so se la soluzione giusta sia quella di auto isolarci in appunto dei vagoni che siano solo dedicati alle donne oppure ci sia invece bisogno di fare delle azioni ulteriori di spinta e di innovazione sul tema della sicurezza che invece è un tema fondamentale appunto soprattutto per le giovani donne. Stavendo sempre in tema di treni e ferrovie ma lasciando il tema della sicurezza, oggi proprio Trenord è in sciopero, uno sciopero che ha causato fortissimi disagi ai pendolari, ai cittadini lombardi, uno sciopero che è iniziato questa notte alle 3 che si concluderà nella notte che arriverà appunto a breve alle 2 di notte, un sciopero che però ha delle fasce di garanzia, quella di questa mattina tra le 6 e le 9 e quella invece prevista per questa sera tra le 18 e le 21. Ricorda però Trenord che si tratta solo dei treni che partiranno dopo le 18 e che avranno orario di arrivo previsto appunto entro le ore 21. Numerosi comunque i disagi, vedremo appunto come andrà a finire. Per il momento da Milano è tutto, Mario ti restituisco la linea. Grazie Giovanni, questo sciopero sta creando numerosi disagi in tutta la regione, ovviamente ripercussioni si sono avute anche in provincia di Pavia, vado subito a collegarmi ancora con Paolo Barni. Paolo, non è una novità il disagio per i pendolari della provincia? Eh sì, ieri pomeriggio Trenord in un comunicato invitava i pendolari a non fare affidamento su treni che non fossero nelle fasce di garanzia e era diciamo un buon consiglio vedendo quello che è successo questa mattina. Praticamente non si sta viaggiando da nessuna parte per le linee che attraversano la provincia di Pavia. Tra l'altro prima Giovanni Migone di Amici si ricordava le fasce di garanzia, ecco la fasce di garanzia della mattina era dalle 6 alle 9 e i treni che erano previsti alle 5 di mattina ad esempio non hanno viaggiato. Comunque sulla Pavia Milano, sulla Milano Mortare Alessandria, Pavia Vercelli, Pavia Codogno, Stradella Milano, sostanzialmente da quando è iniziato lo sciopero non si viaggia. Da Voghera stanno transitando soltanto treni a lunga percorrenza, cioè quelli che vanno in Liguria e pensate c'è anche un caso particolare sulla Pavia Alessandria, sono state rispettate le fasce di garanzia, però l'ultimo treno che era all'interno della fascia di garanzia ha viaggiato con due ore di ritardo, quindi di fatto non è stato molto utile per i pendolari, lo sciopero era stato convocato dalle organizzazioni sindacali unitarie, chiudiamo la questione treni, semplicemente per ricordare che domani ci sarà una distribuzione gratuita di mascherine e sovietine ingienizzanti alla stazione di Vigevano organizzata dall'associazione Pendolari Mimoala che con questo gesto torna a chiedere condizioni di maggiore igiene sui treni, denunciando il fatto che non c'è, come invece dovrebbe esserci per legge, il gel ingienizzante nelle carrozze e che la pulizia lasci davvero a desiderare i problemi di oggi dello sciopero e i problemi di tutti i giorni. Sì Paolo, sono ore di polemiche, lo sciopero di cui hai parlato ma anche le proteste che ci saranno domani sera in Consiglio Comunale a Pavia da parte dei lavoratori del settore di igiene ambientale di ASM con il contratto scaduto da circa un anno. Sentiamo. Una manifestazione per rivendicare la firma del rinnovo del contratto scaduto ormai da un anno. CGL e Fiadel hanno organizzato un presidio per mercoledì sera davanti a Palazzo Mezzabarba in occasione del Consiglio Comunale. Il contratto è quello che riguarda i dipendenti del settore dell'igiene ambientale di ASM Pavia. I sindacati chiedono chiarezza alla giunta sul futuro di questi lavoratori e dell'azienda, sottolineando che il servizio deve rimanere pubblico. Le parti sociali avevano dichiarato lo stato di agitazione ormai più di due settimane fa e hanno annunciato che le proteste continueranno fino a quando non arriveranno risposte dal Comune. Domani sera Funzione Pubblica, CGL e Fiadel si ritroveranno insieme ai lavoratori di ASM davanti a Palazzo Mezzabarba in concomitanza con l'inizio dei lavori del Consiglio Comunale. Saremo lì insieme ai lavoratori per esprimere le nostre preoccupazioni rispetto al futuro dell'azienda e al futuro del loro lavoro. Perché ad oggi, a distanza di un anno dalla scadenza del contratto di affidamento della raccolta rifiuti dal Comune all'ASM, non è stata apposta nessuna firma. Quindi il contratto ancora non è firmato, si è andato avanti con delle proroghe. Noi crediamo invece che i lavoratori meritino certezze sul loro futuro e che il sindaco, in qualità del rappresentante del Comune di Pavia che detiene la maggioranza delle votazioni nazionali della società, debba in qualche modo darci delle risposte certe. Abbiamo programmato lo stato di esitazione una ventina di giorni fa, come Funzione Pubblica e Fiadel non revocheremo lo stato di esitazione finché non vedremo apposta la firma su quel contratto che darà certezza per il futuro dell'azienda e per il futuro soprattutto del lavoratore e delle loro famiglie. Ritorniamo a Milano, ritorniamo a collegarci con Giovanni Migone di Amicis che è davanti all'Università Bicocca dove ha seguito proprio questa mattina un incontro in Aula Magna sul piano di sviluppo dell'Ateneo per i prossimi anni. Diversi gli spunti interessanti. Giovanni? Sì esattamente Mario, si tratta di fatto di una rivoluzione green, una rivoluzione verde perché si parla di 5 ettari di nuovo verde per l'Ateneo della Bicocca, l'Ateneo che si trova nel quartiere del nord della città, ma anche di 450 nuove alberature. Si parla di un vivaio Bicocca che diventerà di fatto una grande foresta urbana aperta al quartiere e soprattutto dove sarà possibile fare anche lezioni, scoprire nuove conoscenze che riguardano appunto la biologia e della flora del nostro paese. Un'operazione enorme che ha un costo stimato di investimenti per 110 milioni di euro e che soprattutto ha dei tempi di realizzazione previsti molto molto stretti. Infatti potrebbero essere già gli studenti dei prossimi tre anni, quelli che si immatricoleranno nel 2024, a vedere una Bicocca, un'università Bicocca e un quartiere completamente rinnovati. Dicevamo si parla di una rivoluzione verde perché appunto 5 ettari di nuovo verde e 459 alberi che permetteranno, secondo le stime, di risparmiare circa 100 mila chili di anidride carbonica ogni anno e tutto questo parte da un principio, non costruire nulla di nuovo ma valorizzare l'esistente. Nasceranno così nuove piazze, piazze verdi e high tech soprattutto dove incontrarsi, dove vivere meglio l'Ateneo e dove vivere meglio il quartiere. Non solo verrà anche ampliato, verrà anche implementato il centro di medicina per lo sport che si troverà all'interno del Bicocca Stadium, l'impianto sportivo dell'Ateneo che è già inserito in una cornice verde di oltre 9500 metri quadri, un centro di medicina per lo sport che permetterà di studiare nuove soluzioni per il miglioramento degli stili di vita. Sarà ridisegnata ovviamente in ottica verde anche la mobilità, anche qui non solo dell'Ateneo ma anche di tutto il quartiere. Si parla di un percorso ciclopedonale che si apre alla città che attraverserà l'intero Ateneo che è lungo oltre un chilometro e di nuove dieci velo stazioni per poter vivere la zona in bicicletta a tutte le ore del giorno e della notte. Il tutto basandosi su ovviamente energia pulita. Sono stati previsti infatti integrati all'interno delle architetture già esistenti oltre 2000 metri quadri di pannelli fotovoltaici che permetteranno appunto di sfruttare l'energia pulita del sole ma non solo. Verranno anche approfonditi gli studi per sfruttare al meglio anche l'energia geotermica, quella che proviene dalla falda acquifera che si trova sotto Milano e che costituisce un potenziale ancora non sfruttato. E infine ma non ultimo anche un sistema di illuminazione intelligente, una rete di sensori per monitorare le condizioni climatiche dalla temperatura all'umidità ma anche i livelli di smog per favorire politiche che vadano incontro alla salute dei cittadini. Ma anche per esempio il cosiddetto chilometro dell'arte, un percorso pedonale che attraverserà appunto tutto il campus e all'interno del quale sarà possibile osservare, visitare opere d'arte contemporanea integrate all'interno del tessuto della città e dell'università. Un programma quindi assolutamente ambiziosissimo sviluppato tutto internamente all'Ateneo perché appunto a studiare queste soluzioni sono stati 200 ricercatori che lavorano in 40 dei laboratori che sono presenti qui all'università Bicocca. Abbiamo detto quindi il costo 110 milioni di euro da qui ai prossimi tre anni entro 2024 quando Milano potrà offrire ai suoi nuovi studenti un campus ma anche un quartiere completamente rinnovato e verde. Per il momento da Milano è tutto. Mario ti restituisco la linea. Grazie Giovanni. Ovviamente nelle prossime edizioni tutti i dettagli anche di questa notizia. Noi ritorniamo a Vigevano con le nostre notizie perché è scontro aperto tra la Rotary Club e l'amministrazione comunale sulla pulizia delle colonne di Piazza Ducale. Ricostruiamo la vicenda nel prossimo servizio. Anche se è Natale dovremmo essere tutti più buoni. A Natale bisognerebbe essere tutti più buoni, ancor più quando si presenta il concerto di beneficenza del Rotary Club Mede Vigevano che per la cronaca andrà in scena in doppia data, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre in Cavallerizza con il St. George Pop Choir, la compagnia La Goccia, Emozione Danza e una compagnia di balli hawaiani di trecate. Il presidente Salvatore Polio però ha dei grossi sassi da levarsi nelle scarpe e quindi sfrutta l'incontro con i giornalisti per far presente alcune situazioni pendenti con il comune. Si scopre così che il Rotary Club Mede Vigevano aveva proposto lo scorso marzo di effettuare a proprie spese la pulizia di tutte le colonne di Piazza Ducale con tecnica laser. Una questione molto sentita quella del decoro del salotto cittadino, le cui colonne in granito sono rovinate in basso dall'urina dai cani e in alto dall'inquinamento. Nove mesi dopo la proposta però dal comune non si avrebbe avuto ancora nessuna risposta sull'accettazione di questo regalo. Sarebbe stato un intervento tutto gratuito e la pulizia delle colonne sarebbe stata approfondita ed accurata. Questa proposta non si sa dove si è finita, cioè è stata assorbita dalla palude burocratica e scomparsa nel nulla. Dal Rotary Club Mede Vigevano fanno sapere che se entro tre mesi l'iniziativa non potrà essere realizzata, la proposta sarà ritirata e il comune, se vorrà ripulire le colonne di Piazza Ducale, dovrà farlo a proprie spese. Non è però questa l'unica questione in ballo. In città in molti si stanno domandando che fine abbia fatto il monumento dedicato alle vittime del Covid, un'opera finanziata dallo stesso Rotary Club Mede Vigevano e che però finora non è stata realizzata. A dire del presidente Poleo, anche questa iniziativa è rimasta insabbiata nella burocrazia. Non abbiamo più segnali di vita, non vedo perché decine di paesi, borghi, sperduti in mezzo alle campagne debbano riuscire a fare iniziative persone di questo genere e noi, che siamo comunque la seconda città della provincia, siamo la sesta città o nona della Lombardia, non riusciamo a sbloccare la situazione. Su Monumento per le vittime del Covid scatta secondo ultimatum di Poleo al Comune. Se la questione non si risolverà entro fine gennaio, l'opera verrà offerta a una città vicina. L'attacco non si ferma qui. Tornando al concerto di Natale, il presidente rimarca come gli alpini, che offriranno bevande calde a chi parteciperà all'evento benefico, è stata chiesta la SCIA, la certificazione di iniziatività, una pratica dal costo variabile tra le 100 e le 300 euro, dove non sono previste esenzioni per le manifestazioni senza fine di lucro. Gli alpini devono comunque presentare la SCIA per offrire gratuitamente un bicchierino di vin brulee ai cittadini in uscita, che escono dal concerto. Però si tratta anche qui di, se permettete, in fin dei conti una specie di balzello aggiuntivo, una sorta di tassa surrettizia che non vedo perché facendo le cose per beneficenza si sia costretti a pagare. Nelle prossime edizioni vedremo anche la replica dell'amministrazione comunale rispetto a questa polemica. Adesso sul web per una notizia di cronaca riportata da diversi siti, tra cui l'Ansa Lombardia, una maxifrode da 30 milioni di euro che ha portato arresti e perquisizioni in tutta Italia. Le indagini sono partite dalla procura di Varese, come si legge anche nell'articolo in queste ore, su delega proprio della procura di Busto Arsizio. Sono in corso perquisizioni in numerose province, tra queste anche quella di Milano e la provincia di Pavia. Sott'indagine 70 aziende su tutto il territorio nazionale. Ovviamente torneremo anche su questa notizia nelle prossime edizioni. Per il momento è tutto. La nostra informazione torna come di consueto a partire dalle 19 con l'edizione Milano. La nostra informazione torna come di consueto a partire dalle 19 con l'edizione Milano.